E adesso lo sport. Ci sono novità, ci sono novità nel Pescara, cambio in panchina. Esonerato Auteri, dopo la gara di Lucca, anche dopo le discutibili dichiarazioni del dopo partita, il Pescara torna ad affidarsi a Zauri, Luciano Zauri, ma ci dice tutto su quanto sta avvenendo proprio in questi minuti nel luogo dove ciò sta avvenendo, il nostro Enrico Giancarli. Buon pomeriggio Enrico. Ciao Carmine, buon pomeriggio. Un saluto a te e un saluto agli amici che ci guardano in diretta al TG8. Luciano Zauri, che a breve dovrebbe, usiamo ancora il condizionale, diventare il nuovo allenatore del Pescara, è qui a pranzo con il direttore sportivo Luca Matteassi e con il team manager Francesco Troiano. Non c'è il presidente Daniele Sebastiani. Il nostro Danilo Cinquino può far partire delle immagini che abbiamo fatto prima, quando per un attimo è uscito Luciano Zauri fuori alle KK Hotel, lo vedete proprio nascosto tra il direttore Matteassi e il team manager Francesco Troiano. Stava salutando una persona, Luciano Zauri, che al momento è dentro, perché non è ancora ufficiale? Perché deve risolvere il contratto che lo lega alla Bologna fino a giugno 2022. Una formalità dovrebbe essere, quindi si attende nel pomeriggio, al massimo domani, l'ufficialità, ma andiamo a ricostruire quelle che sono state queste giornate molto travagliate in Casa Biancazzurra. La sconfitta per due reti a uno sul campo della Lucchese, le dichiarazioni a questo punto di facciata del presidente Sebastiani alla nostra domenica sportiva, quando ha detto Auteri non si tocca, non è cambiato assolutamente nulla, e invece nella giornata di ieri è iniziato il toto allenatore. Nel tardo pomeriggio c'è stato l'incontro a Carzoli tra il DS Luca Matteassi e l'ex CT della Nazionale Ender 21 Gigi Di Biaggio. I due si sono trattenuti a cena in un noto ristorante di Carzoli. Una volta incassato il no di Gigi Di Biaggio, il direttore Matteassi ha riferito al presidente Sebastiani. Potrebbero, usiamo anche qui il condizionale, esserci stati anche dei colloqui con altri allenatori. A notte fonda, intorno alle due, il presidente Sebastiani ha chiamato Luciano Zauri, che questa mattina si è messo in viaggio da Bologna e è arrivato intorno a mezzogiorno qui alle KK Hotel. Poco fa, anzi diciamo un'ora e mezza fa, è uscito per un attimo. Lo abbiamo visto con le immagini che vi ha mostrato il nostro Danilo Cinquino. Nuovamente dentro con il team manager Francesco Troiano e con il direttore sportivo Luca Matteassi si sono trattenuti a pranzo. Noi chiaramente aspettiamo, direttore, che escano almeno per far vedere proprio bene le immagini di Luciano Zauri. Che ricordo sia di Luciano Zauri, di un grandissimo girone di andata con quel 4-3-2-1 che aveva fatto innamorare tutti Galano e Macin dietro l'attaccante centrale. Poi iniziò anche lì una involuzione che portò alle dimissioni di Luciano Zauri. Perché il prescelto di Sebastiani? Qual è l'indizio? Quando Sebastiani più volte le nostre domande, anche nelle passate stagioni, chiedivamo quale poteva essere un suo grande rimpianto, aveva sempre risposto quello di accettare le dimissioni di Luciano Zauri. Quindi credo che ora il cerchio si sia chiuso. Io ho l'auricolare Carmine, se le domande sono qui. Per capire quale potrebbe essere il mandato a Zauri, che ricordiamo ha un contratto che scadrà alla fine di questa stagione. Si cerca un'impresa, un miracolo nei play-off che partiranno in salita? Oppure, vedo che intanto si apre una porta ma non credo sia lui, si guarda ad un progetto più a lunga gittata, insomma, secondo quello che hai percepito questa mattina? Allora, la sensazione è che l'accordo con Luciano Zauri dovrebbe essere fino a fine stagione con opzione che chiaramente diventerebbe automatica in caso di promozioni in B per il prossimo anno. È chiaro che il presidente Sebastiani, almeno sulla carta impegnato in trattative per la cessione societaria, non può impegnarsi con contratti a lungo termine. Quindi l'accordo dovrebbe essere per questo mese e mezzo, due mesi, per provare a fare un grande play-off con un'opzione a favore della società per l'anno prossimo, che chiaramente immaginiamo diventi automatico in caso di promozione in Serie B. Anche da chiedersi un po' come giocherà Luciano Zauri con questo organico che è a disposizione, squadra che ha iniziato qualche minuto fa la riunione all'appoggio, non molto lontano da qui, agli ordini del vice Cristiano Delgrosso, che resterà il secondo anche di Zauri. Zauri fece benissimo con il 4-3-2-1, ricorderete Galano e Macin dietro l'attaccante centrale, una squadra che giocava veramente molto molto bene, i quattro gol al Benevento che poi ha dominato il campionato. Poi qualche volta si schierava anche con la difesa a tre, ricordiamo la partita casalinga contro la Cremonese, quel 3-5-2 che scaturò polemiche, addirittura quel 3-5-1-1 di Frosinone, dove addirittura giocarono Macin e Galano come unici attaccanti di riferimento. C'è stata un'involuzione che portò alle dimissioni, ma io credo che questo organico possa essere gestito molto bene da Luciano Zauri. Bisognerà vedere anche un po' la posizione di Ledyan Memushai. Sì, è chiaro che ci sono gli uomini per poter fare un 4-3-2-1 di grande qualità, mi viene da pensare a Dursi e a Clemenza dietro Franco Ferrari, però chiaramente Zauri deve avere tutto il tempo per fare le scelte, ma 4-3-2-1 era il suo sistema di gioco, vedremo strada facendo. Grazie Enrico, allora come ci siamo detti non resta che attendere il Via Libera del Bologna. C'è il direttore sportivo Luca Matteassi, non so se può parlare, siamo in diretta direttore? Sì, sì, vai, vai. Allora, un flash in diretta, perfetto, con Matteassi, chiaramente non può parlare Luciano Zauri, ci diceva Matteassi perché è ancora legato contrattualmente con il Bologna, chiediamo però perché questo ribaltone dopo Luca, quando sembrava, almeno dalle dichiarazioni del Presidente, che restasse ancora a Ute. Abbiamo deciso di così, abbiamo deciso di provare a fare questo cambiamento, per portare aria nuova, dispiace tanto per il mister, con cui ho un ottimo rapporto, un mister che è un lavoratore vero, una persona vera. Purtroppo è avvenuto questo, dispiace veramente tantissimo, però insomma fa parte del calcio, quindi dispiace, ripeto, però adesso dobbiamo guardare avanti e cercare di portare aria nuova, provare a dare una sterzata con il nuovo allenatore. Ecco, c'è stata questa scena che doveva rimanere segreta, ma poi c'è stata una foto galeotta ieri sera a Carzoli con Gigi Di Biaggio, perché la scelta di Zauri, cosa vi siete detti con Di Biaggio e se avete sentito magari anche qualche altro allenatore nella giornata di ieri che immagino sia stata molto lunga? Sì, è stato già due giorni che sono abbastanza lunghi, sicuramente il Presidente mi ha dato la possibilità di vedere cosa c'era in giro, abbiamo parlato non solamente con due allenatori, ve lo dico, però alla fine abbiamo deciso di parlare con quattro allenatori e poi la scelta è ricaduta su Luciano che ha tanta fame e tanta voglia di rimettersi in pista, qua aveva già fatto molto bene, sono tre partite più play-off e vediamo di fare più punti possibili e fare dei bellissimi play-off. Ci conferma accordo fino a fine stagione con opzione a favore della società per il prossimo anno? Confermo accordo fino a fine stagione e se andiamo in B sicuramente rimarrà lui, se invece non andremo in Serie B valuteremo tutti se ci saremmo trovati bene o no. Chiedo le ultime due cose prima di restituire la linea al direttore in studio, la prima, se avete parlato tra questi quattro allenatori avete parlato anche con Camplone? No, io personalmente non ho mai parlato, io ho parlato con quattro allenatori ma Camplone non ho mai parlato. L'ultima, parlando magari davanti a un caffè con Luciano Zauri, vi ha detto anche come mi piace giocare, perché noi ricordiamo quel 4-3-2-1 che fece benissimo nella prima parte di una stagione poi poco fortunata. E tra l'altro Sebastiani ha sempre detto che l'unico rimpianto che ho è aver accettato le dimissioni di Luciano Zauri, quindi a molta stima del tecnico. Quando è stato fatto il nome di Zauri queste parole me le ha dette anche il presidente, e per quanto riguarda il modulo invece vediamo. Abbiamo parlato, sono sincero, adesso lui dovrà conoscere bene la squadra, poi farà le sue votazioni e deciderà lui come giocare. Lo staff rimarrà lo stesso? Lo staff rimarrà lo stesso. Grazie, grazie al direttore della Pescara Luca Matteassi. Chiaramente questa è un'intervista importante rilasciata proprio in diretta al TG8, dove ha chiarito tantissime cose il direttore sportivo della Pescara. Ti restituisco la linea. Grazie a lui, allora restiamo così, attendiamo l'ufficialità, ripeto, che è soltanto un fatto formale, però è legato insomma al nulla osta del Bologna. Ci aggiornerai online sul nostro sito www.reteotto.it e naturalmente sui nostri profili Facebook e Instagram con l'edizione della serata in cui speriamo di avere già in tempo le prime dichiarazioni di Luciano Zauri in quanto allenatore del Pescara. Questa è la notizia sportiva del giorno.